Ciao, negli ultimi video abbiamo realizzato una rete di controllo di 8 LED, comandabile sia sul posto tramite dei pulsanti, registri a scorrimento e microcontrollore Arduino, sia controllabile a distanza tramite un browser web grazie a un vecchio PC portatile che fa da ponte tra la rete RS485 di Arduino e la rete IP di casa. Ciao! Abbiamo cercato di usare tecnologie complesse, ma ormai di uso quotidiano spiegandone i concetti di base e il risultato mi pare abbastanza buono. Ma è rimasto un problema da risolvere, ovvero togliere il fastidioso lampeggio sul browser ogni secondo, cioè quando viene verificato se ci sono stati cambiamenti allo stato dei LED e quindi ridisegnato la pagina. Infatti abbiamo visto la programmazione di Arduino, abbiamo creato un rudimentale sistema di monitoraggio della seriale tramite il PC e preparato col PHP una pagina web da inviare al browser della rete locale. Nel progetto che siamo arrivati a sviluppare, il browser chiede via HTTP una pagina web che mostra lo stato dei LED e ogni secondo si ricollega al server per ottenere una versione aggiornata di questa pagina. Se cambiassimo frequenza, aumentando il tempo tra gli aggiornamenti, il fastidio del lampeggio della videata sarebbe minore, ma potrebbe passare troppo tempo dal cambio di stato di un LED all'aggiornamento della pagina web. Occorre quindi che la pagina mostrata dal browser venga aggiornata senza doverla ricaricare e per farlo con l'usare JavaScript. L'idea di JavaScript è nata col browser Netscape 2 nel 1995 per dare agli sviluppatori di siti web la possibilità di interagire in modo dinamico con gli elementi di un documento web e poi si è steso per la creazione dei siti web moderni. JavaScript, per dirlo in modo semplice, è un linguaggio di programmazione che viene caricato insieme a una pagina HTML e permette di interagire con l'utente modificando il contenuto della pagina web anche senza contattare il server. JavaScript dipende comunque dalle tecnologie viste finora, cioè principalmente HTML e HTTP, ma anche il PHP tornerà comunque utile. Il nome JavaScript somiglia a Java, ma si tratta di due linguaggi differenti, anche se potrebbero somigliarsi molto come sintassi, visto che derivano entrambi dal linguaggio C. Vediamo quindi JavaScript, ma prima di parlare di JavaScript dobbiamo vedere una cosa dell'HTML. Attiviamo il PC portatile che fa da server web ed un altro PC carichiamo la pagina con lo stato dei LED. Ne vediamo alcuni di accesi e altri di spenti. Firefox ci permette, dal menu strumenti, poi strumenti dal browser e il sorgente pagina, di vedere cosa è stato trasmesso dal server web. Nel nostro caso vediamo un file HTML che corrisponde a quello che è stato generato dal PHP all'interno del server. Il sorgente della pagina, così come è ricevuto da Firefox dal server web, può essere salvato sul PC tramite il menu file e poi salva pagina con nome, specificando pagina web sull'HTML. Se invece si specifica la pagina web completa, viene creata una cartella con immagini e altre componenti, e la pagina HTML viene corretta e adeguata per usare la cartella del PC. Ad esempio, prendo questo file con feather pad, vediamo che Firefox ha aggiunto tag mancanti, rendendo il documento più corretto. Invece, selezionando dal menu strumenti, strumenti del browser e strumenti di sviluppo web, compaiono molti altri controlli. La prima linguetta a sinistra, chiamata analisi pagina, mostra i vari elementi che compongono la pagina web, e in particolare viene mostrato quali elementi ne racchiudono altri al loro interno, permettendo di espandere il blocco o condensarlo in una sola riga. Grazie a questo strumento, si possono verificare i documenti HTML con strutture complesse, evidenziando con facilità come suonano i dati tra loro i vari elementi. Quello che stiamo vedendo si chiama DOM, che è l'abbrevazione di Document Object Model. Tramite JavaScript è possibile gestire questa struttura, rintracciare elementi, cambiare gli attributi degli oggetti e cambiare il loro contenuto, aggiungendo o togliendo singoli elementi presenti nella pagina senza dover chiedere un nuovo documento HTML al server. Ad esempio, ad un'immagine inserita col marcatore IMG, si può cambiare l'attributo SRC facendo comparire un'immagine diversa, mentre per un marcatore TD si può cambiare il testo contenuto nella cella della tabella. Per usare JavaScript è quindi importante scrivere una pagina HTML sintatticamente corretta, in modo che il browser la visualizzi in modo preciso e si possano rintracciare facilmente i vari elementi. La programmazione con JavaScript all'interno del browser web funziona principalmente ad eventi. Se Arduino ha una funzione chiamata setup eseguita all'accensione e una funzione loop eseguita poi infinite volte, il browser web invece si tiene pronto ad eseguire svariate funzioni, decidendo quale eseguire in base a quando accade un preciso evento. Ad esempio, quando si clicca un elemento con il mouse o semplicemente si posiziona il mouse sopra un particolare elemento o si modifica il contenuto di un modulo per la raccolta di dati. Un altro modo è attivare un timer, scaduto il quale viene chiamata una funzione che esegue qualcosa. Facciamo una prova. Dal sito iconarchive.com prende due immagini PNG, ovvero una fragola e un limone. Prepariamo su desktop un documento HTML chiamato prova.js.html e all'interno creiamo una tabella di tre righe per quattro colonne. In ogni cella ci mettiamo l'immagine del limone, tranne nella seconda cella della prima riga. Ci facciamo aiutare dal copia e incolla di feather pad in modo da metterci meno tempo. Adesso, in corrispondenza della seconda cella della prima riga, al posto del limone, mettiamo l'immagine della fragola. Salviamo e vediamo cosa compare su Firefox. Bene, possiamo proseguire. All'elemento img della fragola, aggiungiamo un parametro id con valore cella 1. Questo serve a rintracciare velocemente questo elemento all'interno della pagina usando JavaScript. JavaScript potrebbe comunque trovarlo, ma occorrerebbe scrivere tanto codice per scandagliare tutti gli elementi. Qualsiasi marcatore HTML potrebbe avere il parametro id. Mettiamo il parametro id con valore cella 2 in un'altra immagine, ad esempio quella tutta a destra della seconda riga. Ad ogni elemento si possono associare degli eventi. All'elemento cella 1, quando il mouse si sposta sopra l'immagine, associamo la funzione azione 1, che scriveremo alla fine del file. Aggiungiamo quindi il parametro onMouseOver con valore azione 1 aperta chiusa tonda. Avremmo potuto scrivere anche tutti i comandi JavaScript direttamente come valore di questo parametro, ma quando i comandi sono lunghi diventerebbe difficile leggere il codice. Facciamo lo stesso anche nell'immagine chiamata cella 2, chiamando però la funzione azione 2. Adesso scriviamo queste funzioni. Alla fine del file creiamo una sezione dedicata a JavaScript col marcatore script. Al suo interno creiamo la funzione azione 1. Questa funzione dovrà intracciare l'elemento cella 1, e lo si fa con la funzione getElementById dell'oggetto document. A questo elemento faremo cambiare l'immagine cambiando il parametro src, mettendo un limone, e lo si fa usando la funzione setEattribute. Subito dopo facciamo anche il cambio dell'immagine in cella 2, mettendo invece una fragola. La funzione azione 1 è completata. Facciamo lo stesso con azione 2, scambiando le celle. Questo tipo di programmazione si chiama orientata agli oggetti. In pratica, document è una variabile speciale che rappresenta l'intero documento web, ed è un oggetto che contiene al suo interno delle funzioni che lavorano sull'oggetto stesso. Quindi, getElementById fa la ricerca dell'oggetto cella 1 all'interno di tutto il documento, e restituisce un oggetto di tipo elemento. L'oggetto elemento ha altre funzioni, tra cui setEattribute, che agisce sull'elemento immagine cella 1, cambiando il sorgente dell'immagine visualizzata. Aggiungiamo un testo, prima della tabella, che invita a toccare la fragola col mouse. Salviamo il file e aggiorniamo la pagina in Firefox. Quando il mouse arriva vicino alla fragola, questa si sposta lontano, nella cella più a destra della seconda riga. E spostando il mouse su questa cella, la fragola torna al suo posto. È un scherzetto simpatico da mostrare agli amici. Bravo! Sono disponibili vari eventi, ad esempio il clic del mouse, il mouse che si allontana, la modifica del contenuto di un elemento input di un form e molti altri. In corrispondenza di questi eventi, le azioni che si possono fare sono numerosissime, ovvero si possono cambiare gli attributi di un elemento. Quindi anche ingrandire o evidenziare in altri modi gli elementi che si trovano sotto il mouse, oppure muovere dei riquadri quando una pagina web più grande della dimensione del browser viene fatta scorrere in verticale o orizzontale. Si possono anche inserire degli elementi in qualsiasi punto del documento, sia creando i singoli elementi e inserendoli nella lista degli oggetti del DOM, sia inserendo direttamente del codice HTML negli elementi che lo possono contenere, ad esempio nei marcatori P e nei marcatori TD. Facciamo un esempio di inserimento di testo? Certo! Creiamo un nuovo paragrafo con un pulsante generico usando il marcatore Button. Tra il marcatore di inizio e il marcatore di fine, mettiamo il testo che deve comparire sul pulsante. Dopo il pulsante, creiamo un ulteriore elemento P e gli diamo come parametro D il valore orologio. Al pulsante, aggiungiamo il parametro OnClick, che indica il click del mouse su questo elemento. Come azione, scriviamo direttamente l'intero codice JavaScript, ovvero cerchiamo l'elemento orologio e al suo interno, cioè innerHTML, memorizziamo il risultato della funzione Date. Salvemo il file e carichiamolo su Firefox. Ogni volta che si preme il pulsante, viene scritta data e ora nel paragrafo immediatamente sotto il pulsante. Questo è un esempio molto semplice di come si usa innerHTML, ma l'aggiornamento può essere fatto anche automaticamente grazie ai timer, ovvero alla possibilità di eseguire una funzione dopo un certo numero di millesimi di secondo. Aggiungiamo un nuovo paragrafo identificato come Orologio2. Dopo le funzioni JavaScript, creiamo una nuova funzione chiamata Aggiornorologio. Al suo interno, scriviamo, dentro l'elemento Orologio2, l'ora attuale. E alla fine della funzione, creiamo un timer di un secondo con la funzione window.setTimeout, che richiama la stessa funzione Aggiornorologio appena trascorrano mille millesimi di secondo. Prima di chiudere la sezione eScript, facciamo una chiamata esplicita alla funzione Aggiornorologio in modo da avviare il sistema. Adesso rimasto il pulsante che visualizza l'orologio. In più c'è l'automatismo JavaScript che aggiorna l'orologio in automatico. Ci manca una sola cosa, cioè leggere lo stato dei LED. JavaScript può, silenziosamente, fare una richiesta HTTP e quindi chiedere lo stato dei LED o comandare accensione o spegnimento. Questo aspetto è un po' più sofisticato perché sono stati introdotti anche dei filtri per evitare che queste tecniche possano essere abusate per compromettere altri sistemi e dati, per cui ne parleremo meglio nel prossimo video. A presto! Ciao a tutti! Ciao! Ciao!